Buonasera a tutti Siamo abituati Già il mo è partito siccome ci siamo abituate a fare video tag e ci piace molto finalmente Fufu è tornata a fare questi benedetti video tag cioè la colpa, perchè loro si dicono ogni volta, perchè non fate più video è colpa mia a parte che lei fa tutta la la persona che va sempre in facoltà va sempre alle poste a studiare Steve ricordati che sta alle poste a studiare che sta sempre a studiare i libri così, sempre a lezione quindi ma sta facendo tutta la figa da sgargiante quindi non è colpa mia io glielo dico, lei viene qua si sta a mangiare un bel letto anche il parquet a volte anche il parquet assolutamente comunque oggi secondo voi perchè siamo qui con questo foglio come al solito la suspense non ci sarà nei nostri video perchè ve lo diciamo noi perchè stiamo facendo un video che si chiama most likely to cioè chi è più propenso a fare cosa si propenso ciao quindi abbiamo trovato un video di gente che ha messo le domande perchè non ne abbiamo trovati molti perchè il 90% delle persone non ha messo le domande il che vuol dire che quando Semi caricherà questo video molto gentilmente metterà le domande nel box si facciamo così perchè le persone sono peccate che se lo vogliono rifare non possono comunque posso mettere nell'info box anche il tuo significato peccato no non il significato di peccato il tuo come si chiama instagram va bene ok così seguitemi mi raccomando vi seguirò a mia volta lei vi scriverà e faremo la posta del cuore di Fufu Dulce si il 90% dei miei post sono cibo si 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 molto vero fa belle foto comunque è un bel consiglio bene per vedere prima di tutto Semi farà vedere gli orecchini ah si che io gli ho regalato siccome mi avete castremato che non vi ho fatti vedere eccoli qui allora io li chiamo i diamanti dell'oceano perchè sembrano quelli che Jack donò a Rose prima della morte Rose rovinosissima però sono stupendi è memoria di quando abbiamo visto Titanic in 5 puntate forse è vero è vero è vero è vero però fu una bella cosa fu molto bella vabbè i Titanic è un evergreen che devi fare che i queens però lei se li voleva prendere cioè capito lei me li voleva regalare e poi prenderseli o forse a non darveli proprio non darveli proprio no non è vero mi sono forzata ecco diciamo le cose come stanno vabbè a prescindere da ciò adesso noi quindi faremo questa meravigliosa questo video tag e che non ci siamo più perchè li stavo guardando allora noi in realtà dobbiamo dire come funziona cioè perchè siamo questi foglietti non si spiegano fufu sarei io e Sam sarebbe Sammy e ognuna di noi cioè ci poniamo chi è questo canale? di no di in realtà è di DURSO DURSO rispondo io come funziona il video tag che è che noi leggiamo ma guarda sono io che dovrei vincerla insomma noi tutta l'Italia tutti noi uniamoci tutti ehm quindi sto dicendo ah si che io se mi leggerà questa benedetta domanda non c'entriamo capito cioè dobbiamo fare la gara così ce la dobbiamo buttare forse dobbiamo andare più lontane ehm hai visto ehm dai ok ce l'abbiamo fatto siamo bravi eh stavamente parlando su 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 ehm e fai spiegare il fatto a questa benedetta domanda ognuno di noi era giusto con il pigiama ognuno di noi ognuno di noi ognuno di noi vabbè ma dettagli cioè comunque sono chicche con gli orecchini senti pigiama e orecchini un binomio di quelli assolutamente al bacio ehm a queste domande risponderemo ad esempio di chi è questo canale io penso che questo canale sia mio e metto fufu semmi di chi pensa si però lo vanno a mettere davanti semmi di chi pensa che sia questo canale esatto rispondi bene quindi possiamo iniziare così le persone non si annoiano allora questa la prima mi piace chi dice o fa cose più stupide rispondi non è vero ragione super ragione rispondi 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 è molto carino questo si facciamolo proprio così figa rispondi poi aspetta chi è più propenso ad essere arrestato rispondi rispondi dai ma tu cioè tu dalla tua c'è il fatto che c'è la tenerezza c'è la tenerezza quindi uno che studia la giurisprudenza non può essere arrestato capisco ehm tendenzialmente allora è più tenera cioè lì magari riesce con la tenerezza non mi arrestano cioè fai vedere la faccia da peccata cioè vedete come si fa non arrestatemi ti prego persona persona non mi arrestare posso fare l'altra domanda va bene chi è più propenso chi è più propenso a rompere qualcosa no scusate allora nella vita cosa erano delle cose a parte diciamo le palle le palle il letto ruba le cose con neanche quale razzi io non rubo le cose tu rubi le cose non è vero tu mi hai rubato le orecchie tu rubi tutte le altre persone invece non è vero ma cosa stai parlando le ho porto un mietto no fufo assolutamente fufo ha una propensione no ma le rotte assai di cose meravigliosa cioè riesce veramente ma ci riesce bene non è che le fa così se spacca il letto lo spacca per bene poi devi andare a ricomprare magari capito le cose sono fatte ad hoc quando entra e non ci metti impegno cioè vanno dette le cose ma è la nuvola di fantozzi del rompimento che è su di me si è quella la vedete è visibile un'altra domanda chi è più propenso a dimenticare il compleanno di qualcuno no dai vorrei tu però dimentichi il qualcuno io dimentico i miei compleanni no adesso stai pensando tu hai mai dimenticato un compleanno importante no dai no forse nessuno mi sbaglio con i giorni eh sì no io dicevo sempre non distrazione non orientarsi però non so il collegamento tra il compleanno e il non orientarsi quale è stato nella mia mente così vabbè c'è una domanda tipo chi spara cosa cazzo che dice grandi minchiate ecco allora chi è il più divertente? no ma allora c'è la verità è che cioè guardatela cioè fufu world president no vabbè questo è fufu walking ok comunque c'è noi noi siamo molto generose l'una verso l'altra quindi c'è io ho messo fufu le ho messo sempre Era chiaro, perché voi lo vedete a specchio per quello che non l'avete notato. Allora, a specchio. Chi è più propenso a prendere il controllo della situazione? Non ti neanche mi guardi, dai. Non so, non lo so. Non lo so. Andiamo avanti questo. Guarda, dipende. Quanto semi deve portare all'esame e semi? Eh sì, però quando prendo l'aggiglio, Ravine. Ah, dici se è aggiglio, prego, Nari. Perché magari da altri parti. Eh no, aggiglio. Mi prendono i 5 minuti? No, quando non riesci più a dare esame. La risata, la risata, sì. Quello. E quindi quando succede è un po' un problema, anche perché la causo io stessa, quindi è un pochino un problema. Però anche qua c'è stato un collegamento molto ampio tra l'aggiglio e il perdere controllo della situazione. Ma poi nessuna delle due. Facciamo nessuna delle due. Nessuna delle due. Facciamo un altro foglio a parte. Chi sopravviverà ad un eventuale apocalisse? Grazie al suo ego. E al suo ego, il suo ego vincerà su tutti. No, però io andrò sui pianeti con... Lei andrà sui pianeti dei pennelli teneri. Anche, ok. Esiste il pianeta dei pennelli teneri. Ci sono dei buchi neri solo per i pianeti... Per i pennelli teneri. Dei pianeti teneri. Dei pianeti teneri. Aspettate, l'ho perso. Chi è più attraente? Questa quando l'ho messa nel tag ho detto sono pronta. Lo so già. Se puoi fare la faccio attraente anche se col pigiama va sempre. È andato a fare. Scusami. È davanti a tutta età e la devo fare. Sì, guarda in telecamera. No, anche, anche è andata. Cioè già così. Io non ho neanche visto mentre la faccio io. È andata, si sa. Lei dice che sono molto... Roar. Roar. La cosa più divertente è che io non lo so. No, però è vero. Chiedete a tutti e tutti ti diranno se è merroar. Chi sa cucinare meglio, penso. Sì, chi sa cucinare meglio. Questa è facilissima. Come quella di prima. Erano tutti e molto facili. Erano molto facili. Sì, sì. Queste due. Perché le altre, abbiamo risposto, non lo so. A tromba. Anche questa la so. Chi è più organizzato? Vabbè, qua è proprio facile, c'è così. Cioè, lei non esiste più. No, Fufina. Vabbè, da bravo sagittale. Cioè, che volete. Vabbè, però tua madre mette in ordine, non come me. Sono più che metto in ordine. È vero. Allora, scena, andiamo in gita, siamo in Grecia, avevo quindi 15 anni. Io sistemavo le cose nella camera anche delle amiche mie. È vero. Cioè, mettevo papi e capi vestiti la notte che lasciamo l'infio. È una malattia. È normale. No, è normale. Cioè, io ho a che fare con queste persone a considerare il suo padre. Il suo padre che si chiama? Hansom. Hansom. Esattamente. Ah, c'era una prima, vabbè, non fai niente. Chi è il più organizzato? Ma la si sa più. No, vabbè, organizzato è diverso. No, ho detto ordinato. Ah, scusa. Non lo so se ho detto ordinato, organizzato. Forse, tenete. No, organizzato è diverso. Anche io sono organizzato, non sono io. Vabbè, però sei anche bidonista. E che vuol dire? Non è quella la domanda. Ma no, perché se tu sei organizzato non fai bidoni. Chi è più propensato ad ammalarsi? Cioè, io sono perennemente raffreddato, un mocio vivente. Che tifo. Non si dicono queste cose. Non si dicono? No. Ah, questo è caro. Tu dici di fare la d'orso. Ti si lava più spesso. Ma perché Sam si lava, cioè, tipo ogni due ore. Non che io non mi lavi. Quello è il punto. A me anche mi porto la bacina e la dietro. Quello non ci manca sempre qua. Quello è il prossimo step. Mi sarebbe stupendo. Aspetta, che leggiamo l'altro. Chi è più bravo a fare attività fisica? Vabbè, dai. Eh no, ed è peccato. Però io sto facendo yoga e sono molto brava. Fufa, yoga. Cioè, ragazzi. Cosa vuol dire? Eh, aspetta. Chi si prepara più velocemente? No, ho sbagliato. Così proprio mi cante. Si vede. Così a noi facciamo un primo piano. Scusamente. Lei. Lei. Siete le mie sovracci che fa un primo piano? Io no. Uno schifo. Allora, aspettate. Chi soffre di più il sollettico? Io non lo so. Maybe, sì, maybe io. Sì. Chi si mangia di più le unghie? Non ti è passato quasi un periodo danico fa? Tipo, c'è stato un periodo in passato. Vabbè, però te la mangiucchiamo i perubbie. Sì, il trucco è che se mi metto lo smotto non le mangio. Chi è più propenso a scrivere un libro? No, aspetta, quella era quella di dove. Vabbè, facciamo. Chi è più propenso a scrivere un libro? Secondo me. Sì, può essere. Dai. Fufu. Fufu passa le foto. Sì, io faccio le copertine del libro di sempre. Sì, sì, facciamo così. Aspetta. Chi è più propenso a diventare milionario? Per tutti i soldi che mette da parte, Samanta. Ma perché io voglio la pace del mondo? Che c'entra? Scusa. E con i soldi che... E puoi comprare la pace del mondo? Posso comprare la pace del mondo. Capisco. Questa è come la domanda dell'altro tag. Preferisci la mora o risordi? Risord. Risord. Aspetta. Chi si veste meglio? Boh, sì. Mi è arrivata un'immagine su Whatsapp. Sono una quanta persona comunque. Io ci tengo la mia immagine. Ci tengo la mia immagine. Chi è più propenso a leggere? Sì, dai, mettiamo Fufu. Grazie, grazie, grazie. Chi è più propenso a cantare? Questo. Non lo so. Io ho una bella voce. È vero. Volevo dirti. Ciao a tutti. Non mi metterò a cantare se non lo sapevo. Canta. Canta. Jingle Bells. Canta quello che fosse. No. Ciao. Canta tu. Vabbè, no, io lo so. Io lo so. Canto la signora. No, io lo so. Io canto la tromba. No, quindi non va. Chi è più propenso a essere ottimista? No, allora c'è una differenza. Lei è ottimista e io sono stupida. Io non so. Non è vero. No, non lo so. Dipende dall'occasione. Soprattutto che non lo pubblicherò mai, non mi guarderà più nessuno. Perché si impingiamo? No, perché stai dicendo che fossi orribili sulle altre persone. Certamente. Come al solito. Ma perché sei fitta? Chi mi conosce nella vita vera sa che io tendo a dire sempre, a mostrare sempre i miei difetti principalmente. I epischi. Ma dai, non è vero. Cioè, li dico ridendo. Per far ridere la gente, è chiaro. No, però è una brava persona. Non si crede super sempre. Anche se è super. Aspettate. Ti ho un pargoletto. Eh, lo so. È un pargoletto. Guardate che pargoletto. Guardate. Visibilmente pargoletto. Ma chi è più propenso a essere pessimista? Ma nessuno. Ma in realtà no, nessuno. È proprio pessimista. No, pessimista no. No, se no, io già l'avrei ammazzata. Ha, ha, ha. Viceversa. No, scusa. Due pa. No, avrei ammazzata anche messa. Chi va meglio a scuola? Ma... Ne andiamo più a scuola. Ne andiamo... Ne andiamo bene entrando. Ne andiamo male, infatti. Siamo venuti a piedi a piedi a piedi su. No, ne andiamo male, sembra che andiamo... È l'ultimo. È l'ultimo. Questo. Chi è proprio propenso a farsi piercing o tatuaggi? Nebbi. È vero? Sì, tutti e due. No, sì, però no, i tatuaggi enormi, tipo la farfalla sulla schiena, così. Una farina. No, no, no. Ho una manta gigante dietro, così, con tipo la coda che finì... No, no. Basta. Grazie. Mandate a letto i bambini. Sì, 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 assolutamente, anche perché sono le nove e mezza e i bambini devono stare già a nanna a quest'ora, cioè chiari a mamme di tutto il mondo. Mettete a letto i bambini presto. Non ci tenevamo a fare. Lo dice Sam. Se lo dico io... È vero. È vero. È vero. E quindi il video tag è finito, in realtà. E quindi sì, il video tag è finito, però mi dispiace, c'è trona chiusa. Ciao. No, hai fatto il saluto di Gennaro. Ciao, Gennaro. No, con la destra, è vero. Ciao. Oppure? Ciao. Ciao, dai. Ai fufu. Dai, ai semi. Ai semi e ai fufu. Ai fufu. Yes. Comunque rispondete a questi video tag. Cioè, lo so che non si può più mettere video risposta, però noi... È vero. Non si possono più mettere. Così ho sentito dire in giro. No, non si sventite al nostro video tag. Commentate, commentate, commentate. Chi è che diceva commentato? Ma dove sapevo? Ah, non mi viene. Commentate, commentate, commentate. No, vabbè, fa niente. Va bene. Tutto a posto. Io dai fufu. Ora devo andare a fare le sopracciglia. Ci tenevamo a dirvi ciao. La mostrata di questa cosa meravigliosa. Va bene, va. Vi vogliamo. Bye bye. Ciao. See you soon. Goodbye and see you soon. Good luck. Vuoi fare... Aspetta, fai l'occhiorino tu. No, fai tu l'occhiorino. Good luck. No, fai tu. Spacca. Good luck. No, fai tu l'occhiorino.